Cari lettori la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa classica che si concentra su un mago malvagio e potente, servitore fedele di un altro mago malvagio. Il testo incentrato sulla lotta per la libertà e la giustizia può ispirare riflessioni sulle dinamiche del potere e della corruzione. La trama del libro Il mago Maugrabi dello scrittore Jack Cazzotte, pubblicato dalla casa editrice Lorma, è la seguente. Buono il maugrabi non lo è stato neanche da bambino. Figlio di un sortilegio e servitore fedelissimo di Zatanai, al quale si è consacrato per naturale vocazione e brama di potere, questo mago sadico e affascinante, che con un sol colpo di bacchetta può scendere nelle viscere della terra e trasformare gli umani in animali, si aggira sotto mentite ed efficacissime spoglie pronto a seminare panico e dolore ovunque posi piede. Il suo obiettivo? Incantare e rapire quanti più principi e principesse per farne schiavi e rampolli e assoggettare così l'intero pianeta. Uno dopo l'altro ha già messo in ginocchio i fatati e sgargianti regni di Persia, Egitto e Tartaria, ma presto o tardi anche il suo trono di terrore finirà per vacillare. Pubblicate nel 1789, le storie del mago Maugrabi fanno parte del prosieguo delle Mille e una notte al quale Jack Cazotte consacrò i suoi ultimi sforzi letterari. Attingendo all'immaginario di quell'inesauribile fonte di narrazioni, Cazotte ha saputo inventare una scerazzade dalla voce roca, cantrice ed emblema di un settecento inquieto. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.